Buongiorno a tutti, sono sempre Vittor Lasso, 28, allora prima di iniziare con il video di oggi voglio ricordarvi che questa domenica 22 ottobre sarò ospite al Game Ground, un evento basato sul gaming che si tiene a Bolzano e alle 11.30 di domenica 22 ottobre, al mattino, mi troverete nel multiplex di Bolzano per giocare a Starfield e chiacchierare un po' esattamente come avevamo fatto qualche anno fa quando ero stato ospite per la prima volta al Game Ground, che è un evento veramente carinissimo, dislocato in giro per Bolzano ci sono vari luoghi dove si tengono i vari panel, ci sono un sacco di ospiti legati al mondo del gaming e non solo quindi ci vediamo lì e poi si fanno due chiacchiere, per cui sono a vostra completa disposizione adoro l'idea di tornare a Bolzano che mi era piaciuta moltissimo e quindi non vedo l'ora di abbracciare quelli che vorranno venire quindi 11.30 domenica 22 ottobre al multiplex di Bolzano, trovate il link comunque con il programma completo in descrizione qui sotto ma ora bando alle ciance e iniziamo subito con il video di oggi allora volevo fare un breve video per parlare di una delle cose più belle che Disney abbia prodotto negli ultimi anni ovvero un cortometraggio uscito ieri su Disney Plus che si intitola Once Upon a Studio c'era una volta uno studio, una casa di produzione è un corto di circa 12 minuti, quindi non è che duri poi tantissimo che secondo me è molto carino perché celebra i cent'anni di Disney cosa che farà anche il prossimo film d'animazione lungometraggio che è l'Istituto di America uscirà a novembre da noi il 21 dicembre che è Wish questo corto però credo faccia una cosa diversa rispetto a Wish che non ho ancora visto però da quello che ho capito Wish omaggia Disney e i suoi cent'anni in maniera differente qui invece si tratta di un corto in tecnica mista dove vediamo elementi reali quindi ripresi realmente e personaggi animati in 2D e 3D tutti insieme quindi è proprio un omaggio a quanto Disney ha fatto finora e ci sono più di 500 personaggi dei classici Disney e io sono rimasto veramente abbagliato dalla bellezza di questo cortometraggio perché ha qualcosa che secondo me buona parte dei prodotti di Disney degli ultimi anni non hanno una cosa che molti di voi conoscono molto bene e che batte nel petto di tutti il cuore lo stesso che secondo me c'è nella serie di One Piece di Netflix ci scherziamo da tipo un mese e mezzo su questa cosa però sono serio in questo momento buona parte dei prodotti di questa casa di produzione secondo me negli ultimi tempi sono diventati dei meri modi per staccare biglietti al botteghino o per incamerare abbonamenti su Disney Plus magari sono prodotti anche di buona fattura ma spesso non ci vedo quella spinta che ad esempio i classici Disney hanno sempre avuto sono i film che mi hanno cresciuto io nel vedere questo corto ho pianto avevo proprio le lacrime che mi regavano il volto e si andavano a perdere nella mia barba folta perché è stato bellissimo rivedere certi personaggi sullo schermo adesso vi parlerò genericamente e poi faccio spoiler dopo perché non vorrei magari rovinarlo a chi ancora non l'ha visto perché è davvero qualcosa da secondo me provare sulla propria pelle e da guardare con i propri occhi però posso dire che inizia con una giovane ragazza e un uomo più anziano che parlano di quanto Disney abbia fatto cose incredibili nell'ultimo secolo non sono tante le case di produzione che possono vantarsi di esistere da cent'anni se ci fate caso e sono la rappresentazione della generazione attuale e della generazione di più generazioni passate per far capire che Disney ha cresciuto generazioni intere e lo fa da ben cento anni un numero molto potente anche solo a pronunciarlo e da lì la maggior parte dei personaggi più riconoscibili di Disney soprattutto quelli dei film classici dell'Alimation Studio prendono vita perché devono fare una foto una foto di gruppo per celebrare i cent'anni di Disney e è un corto carinissimo molto semplice nell'idea è un corto celebrativo che più che altro vuole ricordarci quanti grandi personaggi iconici Disney ha creato nel corso della sua lunghissima esistenza come casa di produzione e ci sono alcuni personaggi per cui mi si è stretto il cuore perché non pensavo li avrebbero inseriti ci sono alcuni film classici che magari non sono andati bene oppure c'erano problemi di diritti e quindi quei personaggi non li vedevamo più neanche nel materiale promozionale dei parchi o di qualunque altro ambito in cui si muova Disney vedere alcuni di questi sullo schermo peraltro parlanti mi ha fatto crollare c'è una scena in particolare che riguarda Topolino che mi ha dato il colpo di grazia perché è veramente bellissima e io credo che sia incredibile che Disney dimostri di saper ancora tirare fuori cose come questa in un marasma di prodotti la cui qualità è sempre più calante diciamo che questo centenario di Disney arriva in un momento in cui a livello cinematografico la casa di produzione sta soffrendo parecchio soprattutto per quanto riguarda gli incassi se andate a vedere i peggiori flop dell'anno in base ai costi buona parte di questi sono film Disney da Indiana Jones e il 40 del destino arrivando ad esempio anche a Quantumania che comunque è nella top 10 dei maggiori incassi ma rispetto ai costi è stato un grande flop oppure ancora la casa dei fantasmi che però sta andando molto bene su Disney Plus la sirenetta non è incassata quanto deve incassare insomma diciamo che stanno un po' patendo anche Elemental che è Pixar ma che è comunque sempre facente parte di Disney si ha avuto un'ottima tenuta alla fine non ha perso quanto si temeva all'inizio ma lo stesso non si può considerare un grande successo poi sono tutti film che una volta che arrivano su Disney Plus vengono visti tantissime recuperano un po' di soldi ma comunque sono anche prodotti che avrebbero dovuto nell'idea iniziale incassare molto di più per cui poi Disney ha i parchi ha un sacco di altri interessi in molti ambiti per cui non è assolutamente alla canna del gas come tanti dicono perché comunque bisogna guardare come si dice il big picture il quadro generale però comunque insomma essendo il centesimo anniversario non è che è iniziato sotto i migliori auspici però vediamo come andrà Wish e questo corto è comunque qualcosa di straordinario io l'ho amato tra l'altro posso dirvi questa cosa compare anche il genio di Aladin e dice giusto un paio di battute ovviamente essendoci centinaia di personaggi non potevano creare una storia in cui tutti parlano dicono qualche battuta qualche dialogo via ecco il genio ha la voce anche in questo corto se lo guardate in originale di Robin Williams che lo aveva doppiato nella versione originale di Aladin c'era la paura che avrebbero usato un'intelligenza artificiale invece si tratta proprio della voce di Robin Williams perché hanno utilizzato del materiale scartato che lui incise all'epoca in cui il film uscì nelle sale negli anni 90 e questa cosa quando l'ho scoperta mi ha fatto piangere ancora più forte perché poter vedere il genio con la voce di Robin Williams senza l'utilizzo di intelligenze artificiali varie è stato un po' un'emozione e per quanto riguarda la versione in italiano hanno cercato di mantenere tutti i doppiatori originali ovviamente in alcuni casi non era possibile perché c'erano alcuni di questi voi sector che sono morti quindi anche in versione originale hanno usato altre voci però diciamo che laddove potevano hanno usato le voci originali questa è stata una cosa bellissima e fa capire quanto Disney puntasse su questo corto ed è per questo motivo che faccio il video perché secondo me andrebbe fatto conoscere quante più persone possibili e io ho veramente trovato tutto questo bellissimo mi è stata restituita quella magia con cui Disney mi ha cresciuto io sono uno che non ama i musical i momenti canoni nei film e soprattutto nei classici di una volta erano all'ordine del giorno ma nonostante questo io mi ero innamorato di tantissimi di questi classici soprattutto quelli del rinascimento dalla sirenetta poi uno dei miei preferiti sicuramente è Re Leone adoro però Hercules mi piace la impazzire il pianeta del tesoro che è un film purtroppo un po' sfortunato Atlantis insomma è stato veramente bello vedere che Disney si è ricordata della magia che una volta regalava poi per l'amor di Dio ai bambini di oggi Disney la magia la regala ancora non sto dicendo che non sia così però sto dicendo che se all'epoca questi film che mi hanno cresciuto e che ci hanno cresciuto perché so che anche per molti di voi è la stessa cosa erano fantastici per un bambino ma erano fantastici anche per un adulto diciamo che ultimamente anche per quanto riguarda i film in live action questo capita fino ad un certo punto poi non voglio dipingere una situazione più tragica di quello che è per l'amor del cielo però secondo me un po' si era perso quell'aspetto magico che ha sempre caratterizzato Disney e invece lo si ritrova in questo corto quindi il mio consiglio è di guardarlo appena potete tanto sono circa una decina di minuti poco più di dieci minuti potete tranquillamente trovarli e vedrete che non ve ne pentirete adesso però vorrei dirvi un paio di cosine che mi sono piaciute del corto in maniera più spoilerosa per cui non continuate a guardare il video quando inizi a parlare in maniera più approfondita del corto vi chiedo vi chiedo però qual è il personaggio che vi ha fatto più piacere ritrovare in questo corto io tra poco vi dirò il mio perché per appunto non voglio spoilerare per cui adesso vado siete avvisati ok? inizio partiamo col dire qual è il personaggio che più mi ha fatto piacere ritrovare in questo cortometraggio Jim da Il pianeta del tesoro un film che effettivamente non veniva più tirato fuori da Disney è capitato forse qualche volta ma veramente poco c'è anche Tarzan addirittura perché Tarzan non è stato più utilizzato per una questione di diritti d'autore avevano avuto dei problemi con i diritti che a un certo punto erano scaduti casini col merchandise quindi hanno sempre cercato di non utilizzarlo perché ogni volta che dovevano utilizzarlo dovevano pagare effettivamente i diritti d'autore se non erro ci tenevano così tanto a questo corto che se ne sono infischiati e hanno pagato penso quello che dovevano pagare ipotizzo io non so se ci sono stati degli accordi ma non credo quindi io sono rimasto quasi sconvolto dalla bellezza di questo corto è stato bello vedere Jim Milo di Atlantis poi Scar il Grillo Parlante il Gallo di Robin Hood Little John lo stesso Robin Hood poi i protagonisti di Zootropolis bello vedere personaggi in 2D e 3D che interagiscono insieme come se fossero una grande famiglia è stato un momento veramente splendido e credo che la scena che più mi ha intenerito in realtà mi ha fatto proprio crollare come vi ho detto prima è quella in cui Topolino che sta dicendo a tutti di andare fuori a fare la foto passa in questo corridoio dove c'è il quadro appeso di Walt Disney con lui che si commuove guardandolo e dice beh dai io adesso devo andare perché di fatto è il suo padre questa cosa l'ho trovata splendida ho la pelle d'oca mentre ne parlo è un momento bellissimo Topolino che guarda il suo creatore commuovendosi perché non c'è più ma rendendosi conto che lui è rimasto e probabilmente rimarrà per sempre e è stato anche bellissimo vedere che quando tutti sono riniti per la foto arriva anche Oswald personaggio già utilizzato in alcuni videogiochi su Topolino che era quel personaggio che fu rubato a Walt Disney e di cui Disney molti moltissimi anni dopo riprese i diritti d'autore in teoria è il primo personaggio creato da Walt Disney che compare nella sua versione in bianco e nero in stile Steamboat Willie che era il primo corto in cui compare la Topolino per cui è un corto molto emozionante se poi uno conosce la storia dell'animazione di Disney è qualcosa che proprio ti pugnala in senso però positivo al cuore e ti dà questa sensazione malinconica ma dolcissima perché in un certo senso mi ricorda un periodo che non c'è più mi ricorda un'infanzia che non tornerà mai più perché comunque i film Disney classici sono cambiati come giusto che sia non è che tutto può rimanere uguale ma all'interno di questo stesso cortometraggio vediamo tanti personaggi che sono diversi che rappresentano un'era di Disney differente hanno anche ripreso i Robinson altro film sfortunatissimo insomma è un corto che cerca di catturare la magia di Disney come casa di produzione soprattutto di prodotti animati e la infonde in questo ambiente realistico perché le riprese sono quelle veramente dell'edificio di Disney con Pippo che deve fare la foto ma spacca per sbaglio la macchina fotografica tutti se ne stanno andando finché non c'è il gallo che inizia a cantare tutti vengono presi dalla magia del momento con il grillo che ha nella voce originale hanno proprio ripreso la canzone che poi è quella che accompagna il logo di Disney ogni volta che compare tra l'altro e la 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 macchina da presa viene la macchina fotografica viene riparata e tutti fanno questa foto in stile fine dell'anno scolastico che è bellissima quindi io ho veramente apprezzato tutto bellissimo anche il momento con le fatine della bella l'entrata del bosco che litigano per il colore del della struttura del del cappello da mago che c'è sull'edificio e lo cambiano rosa blu rosa blu cioè è pieno di citazioni che secondo me sono meravigliose diretto bene congegnato alla perfezione insomma per me è un piccolo miracolo per cui vi chiedo ancora qual è il momento migliore del corto secondo voi e soprattutto qual è il personaggio che avete ritrovato con più gioia fate un saluto qui sotto io vi abbraccio vi ringrazio grazie e noi ci vediamo al prossimo bui vlog ciao a tutti grazie a tutti